Musica Bella a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video, sono Reda E oggi è uscito il nuovo DLC, il crimine paga parte 2 Andiamo a vedere subito le armi A cagare Allora, è uscito la pistola, 4.000, guardate che carina E i tirapugni, mamma mia quante personalizzazioni E poi un po' non passa Non vedo nient'altro, vediamo un po' per sicurezza, no Vabbè Accessori Niente Basta non uscire Poi andiamo a vedere la roba da vestire e ci vediamo direttamente al negozio di vestiti Allora, eccoci al negozio di vestiti Allora, vediamo il negozio di vestiti Plezieroso Mamma mia Guardate che figata di vestiti Mamma mia Troppo fighe Guardate Guardate Mamma mia Costano un po' di meno Questi qua di adesso Entrambi E' vero Non è che costa tanto Orologi Nuovi A vedere Ok Mamma mia Spettacolo Un po' perduto Una cosa Incredibile Un po' di meno Nient'altro Sharp Merda Non mi la fa mettere Abbiamo vestito un attimo Mamma mia incendori eccole qua guardate ragazzi che belli sono troppo belle mamma mia proprio uno spettacolo vediamo se hanno metto qualcos'altro mmm no niente vediamo non si sa mai mentre che l'altro no e comunque il video finisce qua da red è tutto e ci vediamo al prossimo video bella